Grazie a tutti. Infatti io amo la semplicità e l'eleganza come lei avrà notato. E allora volevo chiederle, avete più di una sala o mi sbaglio? Ne abbiamo due, una all'aperto, scoperta, dove facciamo gli eventi e se capita qualsiasi cosa. E poi abbiamo un ristorante interno con una capienza di circa 250 persone, dove di solito mettiamo i nostri clienti all'albergo, però all'occorrenza lo utilizziamo anche per fare qualche evento. Ma ai nostri sposi offriamo qualcosa di particolare? Sì, offriamo una bella suite per la notte, per la prima notte diciamo. Me la descrivo un attimo, sono curiosa, le suite mi piacciono, di che colore è? C'è qualcosa particolare? Come lei avrà notato i nostri colori si basano sull'arancione, principalmente sull'arancione, quindi troverà una camera da letto con il risalto in l'arancione, che è molto bello. E anche l'albergo che è suddiviso in palazzine, chiamiamole così, i colori sono diversi. Ogni palazzina ha un colore diverso, è molto forte, che a primo impatto sembra qualcosa di all'archino, molto simpatico. La luminosità è fondamentale. Sì, sì, infatti il nostro architetto ha pensato bene di dare risalto a questa bellissima struttura. Non mi resta che chiederle, hai sposato? No, sto scherzando, ero proprio lì. Se lei proprio ci tiene a saperlo, non glielo dico. No, è che stavamo già scherzando prima, non per altro. Io stasera mi sa che rischio di brutto, forse è meglio andare. Signor Loverde, salve, ricordiamo dove venirvi a trovare il nome dell'hotel. Grande Valon Sicani di Gioio Samarea, grazie, una buona serata. Grazie a lei, scappo prima che arrivi la moglie, non si sa mai, scusate.